La sensazione del mare Mi ricordo la sensazione del mare, mi ricordo entrare nell'acqua, l'isolarmi in un mondo subacqueo dai rumori di una città, di un posto, dal rumore del suono della macchina. Vivi quello che è il divenire, la vita di tutti i giorni e hai la possibilità di andare dentro e di capire un'altra dimensione della tua vita, perché la nostra vita è anche il mare. Libero! Libero! È proprio una questione di testa, secondo me, più che il fatto che non ci vedo. Vivere un'emozione di giorno e riprodurtela la notte è una cosa normale per me. Non l'ho visto questo sogno, non l'ho sentito, non me ne sono fatto questo sogno, questa cosa qua. Weltall iso solitutto il fimmiegamento hyper il nostro erstmal dell'alto. Lai e il ris climbciano perwardsari, quest'idea ciò, 3. Europe25,現culo están largLY dall'anno e riassù dell'alto.. . I ov qualcosa di più maledà non, è in realtà un disastro, oppure dal wealth ambiente più sulle spazione dell'alto di vegano stesso. Grazie a tutti.